Se vuoi creare la tua squadra dei sogni e iniziare a spacchettare per trovare le migliori icon e i migliori top player È il momento di passare dei G-Volt Il mio codice sconto e tutti i link sono in descrizione Vai, 5 giocatori, 85 più Speriamo Toz, dai, speriamo Toz, speriamo Toz Dai, dai Nesino Ti prego, please 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 Blu Ah, è Champions, è Champions, è Champions No, è Toz, è Toz Eccolo lì Il mio grande amico Chi cazzo è? Il Neymar della rabbia, mannaggia Vediamo sotto, sotto ci può essere di tutto Speriamo che ha il rating alto per l'SBC Eeeh Yamabelle Di lusso, bravo, dai Di lusso me ne vado Oh, belle SBC Nasino Speriamo un Toz, dai Speriamo un Toz, speriamo un bel Toz Workout Toz Dimmi che Toz E Toz, dimmi Spagna Eeeh, quello lì Quello lì, braimovic del della rabbia Come si chiama Stosca, Strandenberg Grande campione Nasino, ti prego, dimmi che sotto c'è qualcosa di buono Beh, 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 non male E' positivo Poi, se vogliamo dare sempre blu Blu Toz Argentino Eh, 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 ma lei è un birbantone Eh, 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 ma lei è un birbantone Toz è un 8 on a 5, 8 on a 5 Alison, 90 Cross è un 8 on a 8, 8, 8 e godino 5,5 Dai, dai, dai Blu Tots Sì Oddio Oddio Franky The Young Due milioni Mamma Il miglior Centrocampista Di FIFA Questi pacchi Sono fuori di testa Questi pacchi Sono fuori di testa Non può lamentarsi The Young 94 Noyer 89 Robertson 87 Un Tots Arab Un 85 Il Bonnova è messo bene di crediti Se uno è messo bene di crediti Di solito FIFA non ti fa sculare Vediamo Blu Let's go Yes Let's go Tots Tots Sbagliato Guarda il mio? È il mio? No, è un altro Stessa squadra del mio Stesso esterno Ma non è Non è il Neymar dei poveri Questo è il pacco peggiore Però un Tots E due 87 Ma è un Tots garantito In poche parole È quello svedese In poche parole O è Liga Spagnola O è liga Spagnola O è la rabbia 90% è la rabbia Oh, va bene Va bene Va bene Alli sono il 9 Tots 87 Tots 87 Che puoi buttare mercoledì nel Tots La Liga garantito Tots Tots Sì Ormai Ormai quando esce l'argentina Non devo nemmeno dire sì Palona Sembrava veramente lui Però mi sembrava veramente Ormai quando esce Tots Non devo dire sì Poteva andare meglio Diciamo che questi tre Ci stanno anche Ah è uscito anche un pic E ma datemi una sfida Ma datemi una sfida Ma ragazzi Ma non c'è una sfida È troppo facile Tots Ti prego Ti prego Legga Liga 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 E basta Basta con Neymar Basta con Neymar Vabbè ragazzi Già ho trovato Quende Lussuoso Oh guarda il mio pacco Il Tots Neymar Arabo Leva Qui ho trovato Salah Lui è trovato Alli insomma Cambia poco C'è ragazzi 10 credit Mamma mia Dai 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 Tots Ti prego Ti prego Liga 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 Carrasco Andamo 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 92 Forte Tots 87 Tots 87 85 85 Ma come minimo Gli trovo Anche Suarez E ha chiuso Proprio la squadra Mamma mia Incredibile Ti prego Liga 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 E Il solito Busca Let's go Grande Busca Questo c'è un pacco Un po' di merda Però Aversa Fine Carrasco Se l'ho provato No Purtroppo Non l'ho provato Però sembra un bel Testerno Tots Guardate ragazzi È Tots garantito Sto pacco Sì Meglio dell'arabo Non ci lamentiamo Ragazzi Non ci lamentiamo Meglio dell'arabo Sicuramente Meglio dell'arabo Sicuramente Un bel Tots 91 Non è manco mare Tots Jesus Navas Che alla fine Se non gli piace O buttereste Bc È comunque un 91 Tots Vai Vabbè Tots garantito Fammi sognare Speriamo un altro Vabbè Più probabilità Di un arabo Però Tots Garantito Oh Se l'ha detto Tots Garantito Il coccino Guarda qui Che ti fa Con queste mani d'oro Guarda che mani d'oro Azz Rimaniamo boni Neymar Sterling Navas Lagga un po' Ragazzo Quindi Essendo che il ragazzo Lagga un po' Dobbiamo andare dritti Sparati Niente Macumba Dritti Per dritti Let's go No Non droppa più I Tots Che li hanno Bagati È il pacco Peggiore L'ha vinto Sto Povero Polpetta Ah no Vabbè Aspetta Aspetta Però è un bel pacco Non c'è nessun Tots È un 87 È proprio un bel pacco Tots No È Champions Hanno vinto il no Marets Marets speciale Che rating ha? 89 Dè Diciamo Un 89 Un 87 Un 86 Un 85 Poteva trovare di più Il ragazzo Purtroppo Non è brutto come pacco Perché a fine 89 Votta una setta Un 86 Non è male Ma poteva trovare Molto di più Piano piano Invitiamo tutti ragazzi Non preoccupate Blu Tots Carrillo Carrillo Non è un brutto giocatore Sai Puoi buttarlo in este bc Ma non è brutto 95 95 98 E' uno dei migliori C'è sicuro Un altro 88 Siete in una botte di ferro Mamma mia Io sono la zella Tots Brasile Casemiro Bono Però non so quanto è alto Mi sa che ha vinto il no No forse anche lui è un po' E' no Mi sa che è alto il ragazzo Che pacchetto Let's go Naso Let's go Il giocatore Dentro No purtroppo Non è Posso fare la reaction E Tots Oddio No è sempre lui È sempre lui È sempre lui Ehi Piccolo golo Vediamo un po' Speriamo qualcosa di buono Messi è sinistro Tots Sì Sì È un bel pacco È una bella scammata Ma è un bel pacco Oh però bel pacco Quende Tots Kimmich Griezmann Pogba Godin Giocatore schermata Tots Sì Ancora Ma sta bet Porta una zella Clamorosa Ogni volta che Che c'è la bet Della Champions League Esce guanca C'è guanca Tots Che comunque Puoi buttare Mercoledì nel Tots Garantito 88 88 88 Però E manco Tots Figa a tutti No Busquets Mamma mia Il dadone Ragazzi C'è ragazzi Staccount È maledetto C'è ragazzi Io ne ho aperto i 20 Di pacchi 85 Non abbiamo mai trovato Roba del genere Tots No è vero che non c'è più la Premier È quello egiziano Però sotto ci può essere di tutto Eh Ragazzi Tots Che può buttare Nel mercoledì Nella Liga Garantito Noi RSVC Di Bala Buon rating È meglio Se no questo E se mi crasha È finita È un Tots È un Tots Col brivido È una buona bandiera Carrasco Carrasco Let's go Che rallentatore Non ho capito prima Yannick Carrasco Buono Che bomba di pacco Carrasco È niente È crashato È troppo rischioso Potrebbero crashare Da un momento all'altro Tots Faccelo vedere Spagna Bello Lucas Vazquez Fica che drop rate Belli Pi 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 Questi quattro Sono una merda Di rating Però può rimanere contento Lucas Vazquez È una grande carta O invece no Tots Brasile Cdc No È quello Col ditone È quello Col ditone Pensavo Casemito Non è un brutto pacco Però C'è davvero Di meglio È un Tots Carillo Vado subito A vedere Quanto pesa Carillo Carillo è un po Si vede che è un po Magrino Ma guarda Ti direi di sì Tots Che può buttare Nelle se biciclete Nelle se biciclete Nelle se biciclete Da mercoledì 88 87 86 85 85 Questo è un pacco Come quello di dadone Luz Questo è luz Let's go Let's go Let's go Let's go Oro No If Chi c'è if Boh Non c'è nessuno Italia Consigli Non ci può essere un Tots Però ci può essere qualsiasi carta oro 86 Non male 87 87 85 85 Un po' così Blu Tots O black Il miglior portiere del gioco 96 Il campino non delude mai Goloso Goloso questo Cazzo Questo è interessante Figa Però copy C'ha anche Ederson Ederson Sbc Mercoledì Liga Tots Garantito Vola Ederson Questo è forti Via Io quando incontro il suo Rotto dei final Non si passa Chissà questo Quanto è forte Però sotto Vediamo la bet sotto Sotto ci può essere anche Un altro Tots Ci può essere anche Varane Il capitano L'ho chiamato Mauro Martedì 14.30 Video delle richieste di sban E alle 5 Di nuovo qui su Twitch Subday Un bacio a tutti quanti Grazie mille per il sostegno Nella VL Grazie mille a tutti i ragazzi Che mi hanno fatto aprire i pacchi Davvero un bacione a tutti quanti Vi auguro una buona serata Buona partita Perché inizia la Juve Buona serata ragazzi Ciao 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 Ciao